A proposito di un'altra parte, e' un'altra parte di un'altra parte. Che il catarine è stendere talmente nub, che se li vede e blocca, non caccia i cittadini di spara. Ah... Airstrike online No Che pasta sparra a me, voglio... Cioè, esistono anche gli altri player, probabilmente Sì, è ok Sì 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 New target acquired India, India CT open India's got good cover And also They're poking my torso and backing up a little bit New target acquired Watch out the cushion on what's next There's a fresh wall Target destroyed Target acquired Hotel hunchback He's got good cover Not anymore Nope Back on hotel Oh Another guy in the 4th that's fighting Nova Moving back to delta 5 Target destroyed Target destroyed Target destroyed Target destroyed Main fear Unbeatable No, it's impressive You know, Disney